rosy roberts ero nauseata ma più ancora ero pazza contro l'inique polizia e il gioche inique della vita così scrissi al capo della polizia peoria sono qui nella mia casa di ragazza a spoon river dove appassisco a giorno a giorno ma venitemi a prendere ho ucciso il figlio del grande negoziante da madame lu e giornali che dissero che si uccise da sé a casa sua pulendo un fucile da caccia mentivano come l'inferno per soffocar lo scandalo per non perdere la pubblicità gli sperai nella mia stanza da madame lu perché mi aveva buttato a terra quando gli dissi che a dispetto e tutto il denaro che aveva avrei veduto il mio amante quella notte grazie grazie grazie